Ciao ragazzi, sono Daniele Proiettivo e benvenuti in questo nuovo video! Primo, devo fare una cosa molto importante! Tagliarmi i capelli! Poi, seconda cosa, devo salutare Leonardo Sesto Motori, Riccardo Sciascia, Niki Soft e Davide Ammirata che mi seguono sempre! Ciao! Siete in gamba? Continuate così! E poi, terzo... Che devo fare? Sì! Montare gli ammortizzatori della IS! Vai! Allora, tiriamo fuori i nostri ammortizzatori! Aggiungo un'altra cosa rispetto all'unboxing che ho fatto la scorsa volta su questi bellissimi ammortizzatori! Praticamente questi giorni me li sono guardati con calma, bene bene, e ho scoperto che praticamente qui sotto al gommino c'è un dato che con la chiave noi possiamo andare a smontare questa parte dell'ammortizzatore, che vedete, qui c'è la vite, si svita, così noi possiamo andare a sostituire la molla! Io penso, non ho ancora cercato, ditemelo voi, se per caso li avete visti, io credo che se l'ammortizzatore è troppo morbido, troppo duro, noi possiamo cambiare la molla a piacere! O magari mettere la molla del vecchio ammortizzatore, magari c'entra! Un'altra cosa che ho visto è che su questo tipo di ammortizzatore c'è questa vite esagonale, probabilmente da qua noi possiamo andare a ricaricare il nostro ammortizzatore! Ok, chiudiamo questa parentesi e andiamo a cambiare i nostri ammortizzatori! Allora, abbiamo una chiave 14, questa qua di basso, ok? E poi abbiamo un'altra 14 qua, solo che c'è un piccolo problemino! Vedete quanto è lunga la vite? Il problema è che qui abbiamo poco spazio, quindi qua c'è questo pezzo di plastica, qua, qua, dobbiamo smontare questo, e dobbiamo smontare questo, e dobbiamo smontare questo, e dobbiamo... Oddio, ti ho fuso la moto! Sto per ucciderti! Prima che mi arrabbio, prima che mi arrabbio! Ok, questi mi stanno mettendo in buon umore e mi stanno abbassando l'incazzatura! Perché adesso io per smontare due ammortizzatori, per togliere due viti del cavolo, dobbiamo smontare tutto! Grazie ingegnere Honda Auto Fuso la moto che progetti così tanto bene il nostro scooter! Non c'è spazio! Guarda per un pelo, guarda! Non esce! Ti odio, ti odio, ti odio! Vabbè, abbatti gli scherzi! Vieni a vedere, vieni a vedere dentro come è fatto! Guarda che bello! Appala, quanto è sporco! Questo è l'iniettore, questo qui di colore arancione, che c'è il controllo elettrico, questo è il tubo della benzina, qua sotto c'è la pompa della benzina, qui c'è il fiore d'acceleratore, eccolo! Visto che ci siamo, possiamo cambiare le frecce del nostro SH, guarda, eccole qua! Allora, questa è la situazione. Io ho sfilato semplicemente tutto il blocco e appoggiato sopra, sì perché noi non è che lo dobbiamo smontare tutto, a noi ci interessa solamente arrivare qui, per andare a smontare questa plastica, il parafango, eccolo qua, continuare a smontare questa parte per accedere, arrivare al bullone qua dell'ammortizzatore. Guardate come mi sono appoggiato, così, mi sono appoggiato così, in questo modo. A chi servisse, qui ho trovato dei relai, sono due relai, non so a cosa sono. Qui sul lato destro, sopra la marmitta, ho trovato il regolatore di tensione. Questi tre gialli sono gli arrivi dell'alternatore e poi dopo c'è l'uscita in corrente continua 14 volts che con questo connettore si innesta e va nel circuito. Oh, è arrivato Achille, è venuto a lavorare, vero? Sì! Sì! Allora, la molla vecchia è molto più morbida, vai rimontiamoli! Questo qua, svitiamolo, perché se per caso va dietro non riusciamo più a svitarlo. Quindi adesso io lo svito, così possiamo girarlo, metterlo verso l'esterno. Allora, andiamo qua. Allora, la parte filettata dobbiamo girare di là. Così. Adesso qui è un po' più complicato perché abbiamo di mezzo la marmitta, però comunque noi, ben o male, qua sotto, con uno snodo ci arriviamo. Mi raccomando, controllate che questi piccoli sun clock antivibrazioni qua siano integri e non siano crepati o spaccati. Da che dov'essere una cosa facile si sta arrivando molto molto complicato. Ora ho capito perché non c'è nessuno su internet che fa vedere come si smontano e nessuno che li cambia. Allora, la regolazione, siccome devono essere uguali e questi hanno una regolazione millimetrica, utilizziamo un calibro e facciamo così. Questo lo metto qui sulla punta e quest'altro qua vicino alla filettatura, qua. E vado da quell'altro. Vengo di qua e non è preciso. Questo è più stretto. Allarghiamo. Ok, ora va bene. Prendo la chiave esagonale e stringo. Mi raccomando, non stringete troppo perché va a stringere la vite filettata. Se la stringiamo troppo dopo roviniamo la vite. Presa! Ok ragazzi, possiamo finire qui il video. Adesso io dovrò rimontare tutto quanto. A primo impatto la molla mi pare un po' più rigida rispetto a questi originali. Lo si vede anche. Gli SS hanno una molla molto più corta. Invece questa qua, guardate quanto è lunga. Mi raccomando, una cosa molto importante. Non camminate con gli ammortizzatori scarichi. Perché l'SH è pericoloso. Proprio perde l'aderenza alla strada. Questi ammortizzatori hanno 60.000 km e sono completamente scarichi. E spesso quando prende una buca sento proprio il dietro che salta. Scoda in un modo bruttissimo. Gli ammortizzatori quando si scaricano noi non ce ne accorgiamo. Perché non è che di punto in bianco si rompono e si scaricano. E quindi li sentiamo più duri. Ma piano piano si deteriorano. E quindi non ce ne accorgiamo subito. Ma ci dobbiamo un attimo fare un po' caso. Presto cambierò anche l'olio della forcella anteriore. Perché anche quella non va. Io adesso questi giorni li proverò. E vi farò sapere come mi trovo. E vai vai. Rimontiamo tutto. Ma si va. Ma si. Ok ragazzi. Come sempre. Se non siete iscritti al canale. Iscrivetevi. Se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. E per ogni mi piace. Dei ammortizzatori nuovi per tutti. Bene ragazzi. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Mi sa che sono un po' duri. Per le buche di Roma mi sa che non vanno molto bene. Ciao.